TABULA RASA IN ESECUZIONE Se ricevete questo comunicato siete all'interno di una struttura altamente rinforzata Lanciate bengala verdi sul tetto della struttura per confermare che siete operativi Annulleremo la missione al primo contatto visivo diretto con questo segnale Qui Cujo 5-1, a qualsiasi unità alleata e in vicina TABULA RASA IN ESECUZIONE Ripeto, TABULA RASA IN ESECUZIONE Se ricevete questo comunicato siete all'interno di una struttura altamente rinforzata Lanciate bengala verdi sul tetto della struttura per confermare che siete operativi Annulleremo la missione al primo contatto visivo diretto con questo segnale Qui Cujo 5-1, a qualsiasi unità alleata e in vicina TABULA RASA IN ESECUZIONE Ripeto, TABULA RASA IN ESECUZIONE Se ricevete questo comunicato siete all'interno di una struttura altamente rinforzata Lanciate bengala verdi sul tetto della struttura per confermare che siete operativi Annulleremo la missione al primo contatto visivo diretto con questo segnale Qui Cujo 5-1, a qualsiasi unità alleata e in vicina TABULA RASA IN ESECUZIONE Ripeto, TABULA RASA IN ESECUZIONE Se ricevete questo comunicato siete all'interno di una struttura altamente rinforzata Lanciate bengala verdi sul tetto della struttura per confermare che siete operativi Annulleremo la missione al primo contatto visivo diretto con questo segnale Qui Cujo 5-1, a qualsiasi unità alleata e in vicina TABULA RASA IN ESECUZIONE Ripeto, TABULA RASA IN ESECUZIONE Se ricevete questo comunicato siete all'interno di una struttura altamente rinforzata Due minuti al bombardamento Abbiamo due minuti prima che ti toccano la città Non potete mani risultati affermati Sul tetto della struttura per confermare che siete operativi Novanta secondi al bombardamento Novanta secondi, dobbiamo farcela Annulleremo la missione al primo contatto visivo diretto con questo segnale Qui Cujo 5-1 L'inforzata alleata e in vicina TABULA RASA IN ESECUZIONE TABULA RASA IN ESECUZIONE TABULA RASA IN ESECUZIONE TABULA RASA IN ESECUZIONE Minuto, via, via, via Annulleremo la missione al primo contatto visivo diretto con questo segnale 30 secondi al bombardamento Tenetevi sconti Obiettivo, Whisky Hotel Zero umano autorizzato Abbiamo un segnale d'asseggio Abbiamo un segnale d'asseggio Andatevi pulite Usatevi bancari Segnale rilevato a Whisky Hotel Annullare Annullare Abbiamo un segnale dasseggio Un mandamento interrotto, ce ne andiamo? Allora, quando andiamo a Mosca? Non presto come vorrei, ma quando saremo lì la raderemo al suo tempo. Oh, ma lo faremo al suo tempo, capirà. Assurdo tempo.